Buongiorno a tutti, si è parlato tanto e ormai da quando è uscito il girone, insomma che si parla del serrismo e del guardiolismo. Le chiedo che cosa le piacerebbe avere di Guardiola, qualcosa che pensa di non riuscire mai a raggiungere, se c'è. Mi piacerebbe che anche la tua emittente smettesse di parlare di provincialismo da parte mia. Poi io non è che mi posso paragonare a Guardiola, Guardiola è un mostro sacro, è l'allenatore più forte in attività in questo momento nel mondo. E io sono uno che ha delle idee ma ha combinato e ha vinto nulla, quindi non mi posso paragonare a nessuno. Ma in quale occasione avremmo parlato di provincialismo? In varie occasioni, compreso un servizio che avete fatto domenica sera. Domenica sera? Quello di Porralle dice. No, non lo so, non conosco un dottore, scusami. Vabbè, allora, dato che non c'è da parte di noi questo provincialismo, né tantomeno, insomma, mi risulta che da parte nostra ci sia stata questa etichetta. Poi io non lo ritengo neanche un insulto. No, no, ma neanche... A me sta bene anche essere un provinciale. Vabbè, non mi sembra che sia un calcio provinciale quello che sta esportando in Europa. Quindi in questo senso le chiedo qual è l'aspetto del calcio di Guardiola, da un punto di vista prettamente del gioco, che le piace in modo particolare. Mi piace la filosofia di condurre la partita, la filosofia di uscire da dietro a una pulizia, a una velocità di idee uniche. Mi piace la filosofia di andare alla rionquista della palla immediatamente sulla palla persa. Mi piacciono certi movimenti che sono al limite del geniale, che hanno fatto anche contro di noi nella partita d'andata. Quindi stiamo parlando di un livello assoluto, penso di uno di quegli allenatori che quando lasceranno l'attività hanno cambiato il modo di vedere il calcio. Ok, Rai, Variale. Buon pomeriggio Maurizio. Mi riallaccio a quello che tu hai detto dopo la fine della partita di Manchester. Hai detto rispetto alla partita di Madrid, che finì pure quella con una sconfitta, questo però è un passo avanti clamoroso, perché lì eravamo in vantaggio e ci siamo fatti rimontare. Qui siamo stati capaci anche di riprendere in mano la gara dopo essere stati sotto di due gol. Allora, guardando la partita di ritorno con Real Madrid, che cos'è di quella partita che non vuoi più vedere, o meglio il salto in avanti che ti aspetti in questa partita? E se confermi il fatto che vi presentate alla sfida con il Manchester City più consapevole rispetto a quella che è stata poi la consapevolezza che avevate quando avete affrontato il Real Madrid? Collegandomi poi alla domanda fatta prima a Giuseppe, cosa ha di più il calcio inglese rispetto al nostro mi sembra abbastanza evidente. Gli introiti televisivi sono quadrupli e quindi hanno molti più soldi di noi, è abbastanza evidente. Capillo diceva che loro hanno un ritmo di gioco diverso e che il nostro non era allenante con il campionato, è ancora così? Ma io, quando ho visto ultimamente le partite del City in campionato, ho visto spesso partite finite al trentesimo. Quindi anche lì si sta creando un divario tra le grandi squadre e le squadre medio-piccole, pur essendo il divario economico inferiore all'Italia. Quindi penso da che punto di vista i campionati europei per questi divari si stanno livellando, disequilibrando tutti. Quindi sicuramente loro hanno una capacità di impatto alla partita devastante, hanno segnato una percentuale impressionante di gol nei primi venti minuti. Quindi o chiediamo all'UEFA di partito al ventunesimo o dobbiamo avere un impatto alla partita nettamente diversa rispetto alla partita andata. Nella quale, fra l'altro, sono anche convinto che noi abbiamo delle responsabilità, ma sono anche convinto che loro hanno grandi meriti in quella fase iniziale. Perché mai ho visto una squadra uscire dalle nostre pressioni come hanno fatto loro. Quindi vuol dire che eravamo di fronte a qualcosa di veramente importante. Dobbiamo cercare di portarli nell'acqua alta, nell'acqua alta nel senso che loro sono una squadra che spesso al trettesimo è in vantaggio, in doppio vantaggio. E noi dobbiamo portarli al risultato umbilico. E quindi dobbiamo cercare di portarli dove loro non sono abituati. Corriere dello Sport Due brevi domande. La prima, Maurizio, i primi venti minuti sono stati sovrannaturali della partita andata, no? Non erano umani loro. Gli altri settanta, mi è sembrato che anche voi vi siate avvicinati molto. Cosa conta di più di queste due fasi? La prima o la seconda? La prima ti dà una dimostrazione della forza di questa squadra. Una squadra attattivamente eccezionale, tecnicamente fortissima e ci mette dentro anche accelerazioni non comuni. Quindi è una squadra che ha praticamente tutto. In questo momento sono anche in grande fiducia, in grande condizione fisica. Quindi quei venti minuti sono frutto anche di questo. E' chiaro che poi bisogna capire che se loro sono un attimo calati per il doppio vantaggio noi siamo riusciti ad entrare dentro la partita e poi anche a metterli in difficoltà o meno. Io penso che noi delle difficoltà gliele possiamo creare. Sicuramente abbiamo bisogno di una partita dal punto di vista difensivo straordinaria. Le partite non sono mai uguali, ma il rischio, e ce l'auguriamo, che questa sia uguale a quella di 15 giorni fa esiste? Anche dal punto di vista dell'interpretazione da parte delle due squadre? Io penso dal punto di vista dell'interpretazione. Su questo non ho dubbi. Non penso che una squadra di Guardiola venga a Napoli a fare un calcio diverso. E non penso che noi siamo in grado neanche di fare un calcio diverso. Poi saranno gli eventi della partita e la possono condurre su binari diversi, ma l'interpretazione delle due squadre penso che sarà uguale. La prendo un po' alla larga. Poco fa ha detto che vorrebbe essere ricordato come uno che ha cambiato, che ha innovato anche il calcio. C'è un grande innovatore del passato a Rigosacchi. Bigon, che oggi tra l'altro compie 70 anni, ha detto che lei già adesso è più bravo di a Rigosacchi. E che il suo Napoli forse potrebbe giocare con quello di Maradona serenamente. Io non ho detto che vorrei essere ricordato. Io sto parlando di Guardiola. Quindi se io smetto in questo momento di fare questo lavoro non mi ricorda nessuno. Se uno non vince non lo ricorda nessuno. Paragoni con a Rigosacchi è un'offesa per a Rigosacchi. Perché a Rigosacchi ha cambiato in maniera profonda il modo di giocare a calcio. Non solo in Italia, ma in tutta Europa. Ha vinto. Tutti dicono che ha vinto perché ha allenato grandi giocatori. Ma questi sono diventati grandi giocatori con lui, quasi tutti. Basta vedere la storia. Van Basten è stato Van Basten dopo Arrigo. Gullit è diventato Gullit con Arrigo. Reinhard ancora di più. Baresi nella sua immensa grandezza era finito in Serie B. E quindi vuol dire che Arrigo ha fatto fare un salto di qualità a calcio europeo. Che sarà ricordato per decine e decine e centinaia di anni. Detto questo ti dico i complimenti di Bigomi. Fanno grandissimo piacere perché è uno dei due. allenatori a Napoli ha vinto qualcosa. Quindi lo ringrazio molto per quello che ha detto. Gazzetta dello Sport. Buongiorno Marizio. Ciao Mim. Scorrendo poi i tabellini delle due partite in cui il Napoli ha perso in Champions. Risalta il fatto che tu abbia rinunciato a quelli che noi critica riteniamo i titolari. cioè Allan e Giorginio. È una scelta dovuta a qualche particolarità o perché probabilmente li ritieni allo stesso livello di quelli che noi consideriamo titolari? Ma è una scelta contingente dovuta a certi momenti. Giorginio e Allan venivano da partite dispendiose. Andavamo già in trasferta contro squadre che fra le linee sanno già molto bene. Quindi abbiamo optato per un vertice basso più di contenimento rispetto a quello che facciamo solitamente. ma era una scelta contingente a quel momento. Io penso che una squadra, se vuoi stare a questi livelli, i due, tre, quattro cambi senza perdere forza, li debba per forza di cose avere. Quindi non penso che una squadra possa cambiare fisionomia a un due, tre cambi. Questa partita la giochiamo con una prospettiva leggermente diversa, dobbiamo fare risultati, dobbiamo rischiarci qualcosa e poi darsi che le scelte siano diverse. Corriere della Sera. Salve, mister, buongiorno. Ha appena detto che questa partita è una gara in cui bisogna fare risultato, prima Cajon ha detto che è una sfida decisiva. Come si carica una sfida che è decisiva in questa maniera, sempre che lei abbia voglia di raccontarci la verità e non una bugia? Cioè cosa ha detto ai suoi giocatori? Io non te le dio mai le bugie nel senso pieno della parola. Diciamo e ti nascondo qualcosa. Ecco, senza omissioni. O metto qualcosa. Senza omissioni non lo posso fare. Prima di tutto perché se parlassi di come parla la squadra sarebbe un bip continuo. Quindi non è che lo possa fare. Non lo so se è decisiva sinceramente, perché sulla carta il City dovrebbe vincere tutte le partite, essendo la squadra nettamente più forte. Quindi qualsiasi risultato ci può lasciare aperto una porta. è chiaro che, come si è sempre detto, chi fa qualche punto nel City si mette in una situazione di vantaggio. Quindi è importantissima da quel punto di vista. Poi quella decisiva in ogni caso sarà quella o lo sciacquano. Binsport. Buongiorno mister. Ciao. Sei punti di differenza tra due squadri riflette anche il livello tra Man City e Napoli. Puoi dire così? In questo momento la classifica dice il resto, quindi vuol dire che questi sei punti in questo momento ci sono. Speriamo che domani sera sia meno. Repubblica. Eccomi, ciao. Ciao. Vorrei chiederti, ma questo City la considero una squadra imbattibile? Io in questo momento non la considero imbattibile, perché di imbattibile nel calcio e nella vita non c'è niente. La considero in questo momento la miglior squadra d'Europa allenata dal migliore allenatore del mondo. Radio Chris Kiss. Mister, io di domande per te ne ho due. La prima torno sui 30 minuti della gara d'andata e ci proiettiamo però a domani. È vero che quei 30 minuti si è vista una squadra mostruosa, però si gioca al San Paolo. Hai la percezione che giocando al San Paolo e non all'Etead qualcosa di diverso possa venire fuori nell'approccio dei tuoi? Ma è una speranza, però anche la certezza nell'approccio di loro non cambierà nulla, sono giocatori abituati a questo tipo di impatti, a questo tipo di stadio. Però Maurizio, scusa, anche il Real Madrid è abituato al Santiago Bernabeu e nella prima mezz'ora li avete stracciati, no? Sì, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario e quindi per mettere in difficoltà queste squadre bisogna fare qualcosa di straordinario. Io spero che San Paolo ci dia la benzina per farlo, però te l'ho detto, là eravamo di fronte a un'eliminazione diretta e quindi il risultato dell'andata li poteva avere anche leggermente ammorbiditi e fatti sentire tranquilli. Qui siamo di fronte a partite in cui ci sono punti in palio quindi penso che questo possa succedere meno, però spero da parte dei miei che il San Paolo ci importi a un impatto diverso anche se nei primi 20-30 minuti dell'andata io penso che c'erano molti meriti da parte degli avversari. Mister, la seconda più che una domanda è una proposta, anche riflessione. Ma se io ti proponessi fuori dalla Champions ma con la certezza di vincere l'Europa League tu firmeresti? No, in questo momento il massimo è che posso fare e non offenderti. L'ultima cosa a cui voglio pensare... Oh, mica tu hai augurato di andare in Serie B. Lo so, ma se io in questo momento e pensare all'Europa League pensa a che tipo di mentalità attaccherei ai miei giocatori. Quindi è l'ultimo dei miei pensieri in questo momento. Però nel caso, senza che mi offerti... Nel caso ne parleremo quando e se... È una squadra che vorrebbe vincere l'Europa League. In questo momento la mia squadra vuole continuare in Champions. Va bene, grazie. Però ero curioso dell'offesa, qual era? Dopo, dopo te la dico. Canale 21. Mister Iannicelli di Canale 21. Senta, se non è una finale per il Napoli poco ci manca anche a sentire Cana Ion. bisognerà far di più, è meglio che all'andata. Ma lei l'ha già detto. All'andata lei chiese delle facce di ci metto il bip. Che facce chiede? Che facce vorrà trovare domani sera al San Paolo dai suoi? E poi, siccome le imprese hanno sempre bisogno di un eroe, se ci dovesse essere da parte sua il desiderio di un suo ragazzo, di un suo atleta che sia il man of the match, l'uomo che scrive la storia domani sera, chi potrebbe essere, chi amerebbe fosse? Mi piacerebbe fosse uno che di solito non è alla ribalta. Uno che non ha mai segnato, mi piacerebbe facersi il gol decisivo domani sera. Fai il conto di quelli che non hanno mai segnato e metti li tutti dentro. Le ultime due velocissime. Mi piacerebbe vedere le facce impaurite a parte loro domani sera. Ultime due velocissime, cortesemente, TV Luna e Teleclub Vitale, grazie. Buon pomeriggio, mister. Secondo lei, chi è l'uomo più pericoloso del Manchester City, partendo dal presupposto che è una squadra quasi di alieni, insomma, tanti fuoriclasse e top player? Ti faccio una provocazione, all'andata il giuratore ci ha messo più in difficoltà, è Ederson. Non ha sbagliato un'uscita da dietro, è stato cercato un 50 palloni, non se lo tipi da loro difensori, e li ha giocati tutti in maniera straordinaria. E questo ci ha mandato a vuoto molte delle nostre pressioni. Quindi, per quanto riguarda il resto, i cinque giocatori offensivi, prepara l'estrazione, tira nessuno a caso, è la mia risposta. Una grande lotteria. Ultimissima teleclevità. Mister, buongiorno. Una domanda tattica, proprio su quello che è successo in Inghilterra. Soprattutto Delf, giocatore che ha un po' cambiato le tue strategie, forse per la pressione alta. Cambierai qualcosa nel pressing della partita di domani con il City? Perché Delf ti ha dato forse un po' fastidio, non ti ha fatto ragionare lì davanti. Ma non è che Delf li fa diventando 12. Sono uscite alle pressioni in 3-2, invece in 4-1. Una cosa ci succede ogni volta che troviamo la difesa a tre. Quindi non ci dovrebbe cambiare niente, essendo noi una squadra molto orientata sulla palla e poi siamo sugli avversari. È chiaro, e rivedendo l'immagine o qualcosa in quelle pressioni abbiamo sbagliato e quindi cercheremo di porci rimedio. Però spesso si parla di tattica senza tener conto della tecnica. A volte ci sono giocatori che anche se te fai tutti i movimenti giusti hanno una qualità tecnica, una velocità di idee e riescono a uscire dalle situazioni lo stesso. Altrimenti i grandi giocatori non esisterebbero, invece esistono. Grazie a tutti. Grazie. Allora, restate un attimo per un po' di comunicazioni di servizio. Allora, chiaramente domani...